Questa mattina l'Aquila è l'ennesimo sopralluogo per ripercorrere il tragitto del Papa il 28 agosto da parte delle autorità locali e della Gendarmeria Vaticana. Poi di corsa un tavolo tecnico in prefettura per limare gli ultimi aspetti organizzativi. C'erano anche l'Arcivescovo Petrocchi e Don Claudio Tracanna ad accompagnarlo. I preparativi vanno molto bene, c'è anche la Gendarmeria Vaticana insieme a tutte le autorità civili di pubblica sicurezza che stanno ripercorrendo di nuovo tutte le tappe che il Papa farà. Mi sembra che stia andando tutto bene, ovviamente si valuta tutto nei minimi dettagli per la sicurezza della gente e dello stesso pontefice. In città si susseguono quindi le riunioni in prefettura per la visita del Papa il prossimo 28 agosto per l'apertura della Porta Santa, mentre i lavori vanno avanti spediti a Colle Maggio dove la gradinata è pressoché ultimata e si sta procedendo al rivestimento che per il Comune è un intervento migliorativo che riderà dignità all'area intera evitando anche parcheggi selvaggi e disordine con rifacimento del manto stradale. Seppur c'è stata qualche polemica sull'intervento da parte di alcune associazioni, si procede con i lavori finanziati con fondi del PNRR. La gradinata è da circa 400 posti, proprio davanti alla Porta Santa sarà stabile, una sorta di piccolo anfiteatro all'aperto. Si lavora in modo veloce per accogliere il pontefice al meglio e gestire la sua visita in sicurezza. Tutto dovrà essere pronto prima della perdonanza. Il Papa vuole abbracciare la gente, dunque con la sua Papa Mobile attraverserà pure il viale di Colle Maggio con due ali di folla ai lati per raggiungere Colle Maggio. Questo è un dato ormai acclarato dopo la visita in piazza. In piazza Dome e Colle Maggio gli ingressi saranno contingentati con dei biglietti gratuiti per evitare situazioni non gestibili. Per la prima volta nella storia della chiesa aquilana, di domenica mattina al 28 agosto, ci sarà un'unica messa in tutto il territorio diocesano, quella Colle Maggio alle 10 di Papa Francesco. L'arcivescovo Petrocchi infatti ha disposto la sospensione delle messe nelle parrocchie per far convergere sacerdoti azioni alla celebrazione del pontefice.